La Giunta regionale ha modificato la perimetrazione di alcune aree a rischio idraulico nella zona di Pile lungo il tracciato del torrente Raio, a partire dal ponte Peschio fino alla confluenza con il fiume Terno. Il provvedimento è arrivato a seguito degli studi e delle verifiche tecniche dell'autorità di Bacino e delle stanze delle numerose amministrazioni locali preoccupate per il rischio allagamenti. Con questo provvedimento per la zona industriale di Pile si prevede un nuovo sviluppo. Anche il colosso farmaceutico Dompe darà infatti corso al contratto di sviluppo firmato nel novembre scorso con il Governo per un investimento complessivo di 41 milioni e mezzo con il quale si realizzerà un ampliamento del polo aquilano con conseguente aumento in termini di occupazione. Alla base dell'aggiornamento, ha spiegato il commissario liquidatore dell'autorità di Bacino, Luciano Di Biase, vi sono le quote plano-altimetriche messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente mediante i rilievi, che hanno permesso una valutazione più accurata della pericolosità idraulica della zona. Inoltre, lungo il torrente Raio, nel tratto che va dal ponte Peschio alla confluenza con il fiume Eterno, sono stati realizzati dei lavori per la messa in sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale dell'area industriale di Pile, che consistono nel rifacimento del ponte sul torrente Raio, ubicato nella zona industriale, e nella ricalibratura dell'alveo del torrente con la realizzazione di rilevati arginali e taglio delle piante.